Quali sono le strategie per fronteggiare la carenza di personale? È la sfida che molti imprenditori affrontano nel mondo di oggi ed è la domanda alla quale si è cercato di dare una risposta in occasione della quarta edizione del Talent Event promossa dal Wifi, il Servizio per la Formazione e lo Sviluppo del Personale della Camera di Commercio di Bolzano. Noi abbiamo già iniziato cinque anni fa quando abbiamo visto che diventa sempre più difficile trovare collaboratori con le competenze adeguate per coprire posti vacanti. Nel frattempo in Alto Agile è diventato ancora più difficile sia trovare collaboratori ma anche fidelizzarli e tenerli in azienda. Con l'iniziativa Talent Management noi vogliamo aiutare e sostenere le aziende per essere un datore di lavoro attraente e rimanerlo poi anche in futuro per le nuove generazioni. Noi offriamo della formazione mirata su temi rilevanti, su come trovare, quindi recruiting, su come svilupparli in modo adeguato e anche come appunto fidelizzarli. Coprire le posizioni vacanti, reclutare personale qualificato, rispondere alle aspettative dei dipendenti, queste le necessità degli imprenditori. Una serie di indicazioni sono arrivate da Alessandro Braga, docente universitario, che ha passato in rassegna le varie strategie mirate ad attirare, sviluppare e preservare talenti appartenenti a diverse generazioni. Le sfide sono tante, propriamente direi tre. La prima è quella della coesione e da questo punto di vista dobbiamo ricordarci anche dell'inverno demografico. Se vent'anni fa più o meno la relazione, la proporzione tra un lavoratore under 35 e un lavoratore over 55 le nostre aziende era 4 a 1, oggi è quasi 1 a 1. Poi c'è un tema di competenze, molte competenze che portano la nuova generazione al lavoro sono competenze quasi neonate e quindi è difficile instaurare quel rapporto di passaggio della conoscenza, di apprendistato, perché quelle competenze ne sono portatori, pur essendo molto inesperti dal punto di vista di stare al lavoro, però in termini di competenza tecnica portano un know-how che è molto moderno, distintivo. Terzo punto è quello del linguaggio. Parliamo lingue molto diverse, ma soprattutto viviamo e cresciamo in ambienti che non si toccano. Il professor Uwe Canning, definito dal Personal Magazine, la rivista sulle risorse umane più letta in Germania, una delle 40 menti più brillanti nel campo delle risorse umane in Germania, ha fatto luce sui miti da sfatare nel marketing del personale. Il Wifi ha avviato l'iniziativa Talent Management nel 2019 con la consapevolezza che il cambiamento demografico e la concorrenza per individuare talenti richiedono nuovi approcci nella gestione del personale.